Chiusa la COP29 di Baku sui cambiamenti climatici, per gli addetti ai lavori è già tempo di ricominciare. Dal 2 al 13 dicembre si tiene a Riad, in Arabia Saudita, la COP16 sulla desertificazione. Due settimane di lavori durante le quali i delegati governativi dei paesi che partecipano dovranno trovare soluzioni al problema della siccità, del depauperamento del suolo e in generale del degrado delle terre. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e agricoltura, sul nostro pianeta oltre 1660 milioni di ettari di terreno sono stati danneggiati a causa dei cambiamenti climatici o più in generale dalle attività umane e oltre il 60% di questi è costituito da terreni agricoli. La desertificazione e la conseguenziale mancanza di risorse alimentari è un problema che riguarda soprattutto alcuni paesi dell'Africa e del Medio Oriente, ma porta con sé conseguenze che possono essere risolte solo con un approccio globale. Per questo motivo l'Italia parteciperà attivamente alla COP. Con quale obiettivo? Lo abbiamo chiesto all'inviato speciale per il clima del governo Meloni, il professor Francesco Corvaro, che guiderà la delegazione italiana. L'Italia va a questa COP sicuramente con negli occhi e nella mente il progetto che è venuto fuori nei rapporti con i paesi africani. Io non solo andrò a COP ma appena dopo la COP andrò in Mauritania per la seconda volta. E faccio questo proprio per farvi capire un po' cosa l'Italia sta puntando da questo punto di vista. La prima volta che sono andato in Mauritania, sono andato a verificare dei progetti che stiamo valutando con il direttore generale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli Esteri, portati avanti dal World Food Program sulla Land Restoration, quindi sulla possibilità di ricostruire, di rivitalizzare terre abbandonate e desertiche. Perché questo è fondamentale per un paese come l'Italia? Beh, bisognerebbe andarci, bisognerebbe parlare, come ho fatto io con i capi tribù, di popolazioni che sono a ridosso del confine con il Mali, quindi diciamo un paese non dei più semplici con cui rapportarsi e parlando con loro, loro hanno chiaramente fatto capire, mi hanno fatto, mi hanno detto chiaramente che loro non hanno nessuna intenzione di abbandonare le loro terre. Loro vogliono rimanere lì, il problema è che le conseguenze del cambiamento climatico stanno sistematicamente rubando terra. Non c'è terra da coltivare e a quel punto il flusso migratorio è normale, assolutamente fisiologico, perché non c'è veramente da che sfamare le proprie famiglie. Tanto è vero che in questa zona dove con questo programma si è riusciti a riprendere la coltivazione di aree strappandole all'area al deserto, le popolazioni sono lì, sono tornate e si capisce la loro prospettiva da quello che chiedono, cioè ottenuto questo non chiedono l'energia elettrica che pure non la hanno o il cellulare per semplificare, no, loro stanno chiedendo un supporto per delle scuole, cioè loro riconoscono quella come loro cultura, come loro status e vogliono proprio rimanere in quelle zone e avere un futuro per i loro figli. Questa è un'immagine che io ho abbastanza in mente del perché l'Italia sta dando un'ulteriore spinta anche sul tema della desertificazione. Quindi la necessità di impegnarsi e qui appunto ripeto la leadership che un po' l'Italia sta cercando di prendere in Europa anche nell'area africana è proprio legata a questo. Ricordiamoci due cose, l'Italia è il sud dell'Europa e il nord dell'Africa ed è al centro del Mediterraneo e uno dei principali problemi delle zone africane è proprio legato alla desertificazione. Quindi andiamo a Riad con l'ottica di targettare tre principali pilastri che poi mi vengono anche a favore perché le volevo anche un attimo dire di questa iniziativa Clima e Pace, che sono la sicurezza alimentare, la scarsità d'acqua e la land degradation, quindi il depoperimento del suolo. Tutte queste tre pilastri di intervento li ritrovate più o meno i simili nel piano Mattei insieme a un tema cross-cutting che è la migrazione. Questi quattro temi sono esattamente all'interno dell'iniziativa Clima e Pace lanciata in collaborazione con la presidenza della COP29 da Italia, Germania, UK, Uganda, Egitto e Emirati Arabi che sta raccogliendo molte adesioni da altri paesi in cui si mette in luce come ci sia ormai un nesso inequivocabile tra la crisi climatica e la mancanza di pace o, tradotto in negativo, l'insorgere di un numero enorme di conflitti dovuti alla scarsità di risorse. Questo è un po' il mondo in cui siamo. Non è da prenderlo come dire, io non voglio far passare un messaggio negativo, ma oggettivo. Perché non negativo? Perché di fronte a questo abbiamo tecnologie e know-how che laddove messe a sistema ci permettono di affrontare tutte queste crisi e porvi rimedio.